In realtà vedo quella visita a questa mostra come un'esperienza, perché coinvolge un po' tutti quelli che sono anche i nostri sensi. Per chi non l'avesse ancora visitata ci sarà tempo fino al 2 novembre per farlo. A quella data è stata prolungata infatti la mostra Leonardo in 3D allestita dal 16 luglio scorso al Palazzo Congressi di Buario Terme. Non una semplice mostra, lo dicono gli organizzatori, ma un'esperienza immersiva. Nel senso che è visuale, sensoriale, ti mette di fronte a tutta una serie di soluzioni, di fruizione della mostra che non sono in effetti comuni. Chiaro che non ha la pretesa di andare a sostituire quelli che sono ovviamente i capolavori originali di Dandi, di Leonardo, di chiunque altro sia. Però è un modo per approcciare in maniera orizzontale tutte le tipologie di pubblico alla cultura. Perché comunque soddisfa chi ha un livello di cultura magari un po' più alto e quindi vuole anche percepire e apprezzare un certo tipo di situazione. Però soddisfa anche il bambino che è magari più predisposto ad un aspetto ludico eccetera. Perché la mostra ti offre anche tutta una serie di soluzioni di interazione di vario tipo. E quindi questo permette, voglio dire, una fruibilità veramente trasversale. Insieme all'allungamento del periodo della mostra sono stati variati anche gli orari. Abbiamo allungato gli orari proprio perché se in mattinata, nelle mattinate in principio abbiamo le scuole, poi voglio dire dovremmo comunque lasciare spazio evidentemente anche a gruppi di altra natura o visite di altro tipo. Quindi allungando l'orario, al di là che poi la mostra si svolge comunque su una superficie molto ampia, le sale sono comunque di visita, sono separate una dall'altra, quindi non riusciamo facilmente a gestire i gruppi. Quindi comunque evidentemente allungando l'orario si diluisce evidentemente la quantità di persone che entrano ogni giorno. Parte il fatto che noi ovviamente nel momento in cui riceviamo le prenotazioni cerchiamo di distribuire ovviamente soprattutto i gruppi nel corso della giornata. Nei giorni di venerdì e sabato si potrà accedere alla mostra dalle 10 alle 23. La domenica invece la mostra sarà fruibile fino alle 21. Dal lunedì al giovedì il percorso espositivo aprirà i battenti alle 9 e chiuderà alle 19. Grazie. Grazie. Grazie.